Non lo so io Ci facciano per fare un'altra effettiva Igen, no No, 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 no Igen No Sento, ma è migliorata E' migliorata che c'è da sotto Igen Igen Max főle beted a játék hangját Oóóóh ez micsoda Ez menzi Non c'è l'eventura, non c'è l'eventura. Non c'è l'eventura. Non c'è l'eventura, 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 non c'è l'eventura. 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 No, mi è che? Si non è l'ho segnato, non c'è ne vole. C'è un problema, non c'è un problema. C'è un problema, non c'è un problema, non c'è un problema. Tu una volta che ci mangiare? Penso che abbiamo vissuto che questa la missione di una scuola. Nelca? Si, per il modo, è vero, ma che non funziona. Non è vero. Non è vero. Sì, ho chiesto, mi è il l'evento, vengenà fuggi qualcuno. Vissza per me. Non, non è il l'evento. 15 minuti. Mi ha avuto il fatto? Sì, è il l'evento, è il l'evento. Stai a mell' francesca, e non c'è un' straccio, ma è un' straccio, ma è un' straccio? Ammogyno, si. Ezzel'ci un' che c'è un' straccio, 155. Ma non ho? Non ho, non ho, non ho, non ho, non ho? No, non ho, non ho? Mi ha detto che ci sono? Non c'è una macchina, non c'è una macchina. Non c'è una macchina, non c'è una macchina. Perché non c'è una macchina? Ug 어떠? Un po' di domanda! Un po' di domanda! Un po' di domanda! Un po' di domanda! Un po' di spoli! Un po' di te! Sì Mi beherò Si Abbiamo i plai, noi abbiamo i piloti. No, non si fai bene. Ok. Ecco la prossima l'AZI è l'AZI è l'AZI è l'AZI è l'AZI è l'AZI. ... ... ... ... ... ... 5,5, ma chi è che? Non lo so? Sì, io ho scusato, non mi sono ancora più forte. Ma ho fatto che non mi sono già stato il video, non mi sono stato il video. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Io cerco di un'altra parte. Coglieva che aveva? Faccio di un'altra parte. Cosa è la parte? Cosa? Ah, poi, sono un'altra parte. Ho avuto un'altra parte, anche il di un'altra parte, io ho trovato un'altra parte, per i più oltre dei spettatori, che ho visto più di raggiunto, che ho trovato. Cosa è un'altra parte? Che ho trovato un'altra parte, io ho guardo una parte. no ma se legno anche a sigenta per di tutto si è accorgato di quello di più ora mi sono scopata non mi sono anche il filmato questo è stato un bunco ma il cinema richardino e ciò che era intenzione Non c'è nessuno che non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ha l'Egy John è stato vantaggio? Non, non, non c'è nessuno che c'è nessuno. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. C'è nessuno che non c'è nessuno. Wow wow wow, non c'è nessuno che non c'è nessuno? Perché ancora non c'è nessuno? Giorgio, cosa è la storia? Non c'è nessuno. Quindi quello che non c'è nessuno. A maggiora storia dopo cosa pensa che è la strädazione della non c'è nessuno di recognisede. Si iPhone non c'è nessuno vera. Sì, 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 sì. L'epo Egestione? Non, ha fatto un pilota C правильно Hova vatti? Hova vatti? Hova vatti? A volta che è successo Meri che? Ahah, è la mia. Asi. Nye modd. Nye modd, nye modd, nye modd, nye modd, nye modd, es età che c'è la tua bátria. Tàpolt mai, tàpolt mai zett, istorti. Nye modd. Meni lett végül a max? Te fio? Christophe sugetto? Ma non lo so. Mi ha detto? I can't say I'm surprised. We'll support you from here if we can. Mit mond? Jó. Tudtak angolul. Mit mondott Ali? Mit mondott Ali? Mit mondott ez a csávod? Ilyen, a medekről van születes, hogy hozzá. Az nohébről. Hát belem, hogy áldalágy értsem. Ilyen, most a nyár olyan számhér bodyt csináltam magamnak, hogy... ...hogy... ...hogy... ...hogy nem az. Másik. Az egy full random csávó. Ez egy full random csávó. Ez egy full random csávó. Lali, itt csücsül bent ebbe a szarba. Aha. Vagy a kajsa, ja? Igenleg meg nincs. Vagy annyi, mondja valamnak a gyerek, mondanak azt, hogy taptam, hogy egy csapdára. Csak. Ez kell-e megoszatni, hogy szabdára tenni és a fontot. Majd itt tartunk. Köszönöm a gyereknek, hány ümódja? Nem tudom, hogy forradunk csávó. Csak! Tipiตp, 81-et a nevé. PM Steve-e! Nem lesz hova, magyar! We shall aim my grand fiancé-e,generationers! Vár dtm! Mrt Gordon, Moss, vaig08-e a respekt. Kerte... az beside, és mi ilyen make diferencia? Kristoff! Si a lecce si n che che il 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 è il 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 Ma se non è il mio bisogno di testere, ma non è? Succa di baranac! Ma non c'è anche un servizio, ma non c'è un'esercizio Ma non c'è un'esercizio, ma non c'è un'esercizio Eccolo, non c'è un'esercizio Eccolo, non c'è un'esercizio E quel che se ho anche? Cerenc. Cerenc. Mi camedi? Uuuuhh, ma ne! Beh, l'inkedr, ma le foggi un is. ebbene a 3 ore? Ebbene a 3 ore? Ebbene a 3 ore? 1 per cent Se non ciò che non ciò che si è curato il mire a mire il musione è il più più capitano e l'amore è il corpo e tu e tu te lo mettere i suoi lol qui ha qui ha ho fatto il nostro progettismo è il progettismo il collider il testo non sono il testo che si Oh, che. Che c'è la macchia! Ma a bonti! Che c'è la macchia! 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 A zìrha jóvaldi, eccezzi il pilono. Pia, ne perciò che l'upto. Uuh, eh, azzer innen jola nézci. E' un grosso tour. E' l'upto. Noi, no, no. Sì, 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 non c'è nulla. as soon as we figure it out we'll hang out the way yep, what he said thank you a few people in the comments very different warning high energy signal is needed laser strike 10 o'clock free what is it? we are going to get we are going to get Perfetto! 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 Paradeid, venite! Facci! 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 Oltre. Tutti i sistemi stagionati. Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Mi c'è nessuno che il robot? Azt mondom. Azzas? Mi c'è nessuno? Ah! Banana nem bírni. Megmet! Valhatt! Nyomjad az ikter! Mi az a fegyőre a hát, mi fog kéknem rólani, nem? Vagyom. 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 A Collider's charging up. We got a boot. Ugh! The boots are the worst. Take them out! We're gonna find it on a hackney. Can't attack. Sì Ok 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 Ahi, sai? C'è voi? E lei ha una tank, quindi devi andare. Non c'è l'aria più vicino! Ah, non c'è l'aria più vicino! Ah, no, non c'è l'aria più vicino! Ah, no, non c'è l'aria più vicino! Help me pick up those guards! Hang on. System's at 45%. 25%. Zero point touches the crystals at the top of the Collider. Everything ends. The zero point shifting realities. Keep your distance. Eh...unless you wanna go wherever that is. Zero point. Let's move. No one here until all quacks are eliminated. Take them out. Incoming! I got it! Hey! Over here! The zero point. 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 Come on. Come on. What's going on here? The zero point. You just don't know when to quit. The zero point. What is going on here? I finally get a chance to finish what I've started. This is a little close. Coming back online! Coming back. Jones and buy some tires. Wait, wait, wait. Hold your fire. Is he dead? Put it on his side. Sloan. You don't have to do this! è sempre così drammatico ogni ultima domanda è jones senti a meccargo non è così ho pensato che potete usare la mano Uh, who is that? Uh, this is our best chance to find him. All right, it's up to you now. We don't have much time. Those crystals will detonate the Zero Point. Take them out. Zero Point, almost to the top. Last one. That's it. That's the Zero Point. Dang it. Don't worry, I got you. Don't worry, I got you. No, I have a mic. I can't wait for you. Why doesn't I have anything here? Maci, I can't wait for you. Can I have a mic? M-節сти? I can't wait for you now. What did I have already seen? I mean, Macit is this way, I've talked to you. I'm sorry, but I've seen some. ... ...